Sono Ezio Guarantelli e dirigo dalla sua fondazione nel 1989 la casa editrice Vindau. Da allora mi occupo anche di formazione editoriale, infatti abbiamo organizzato sia qui a Torino che un po' in tutta Italia corsi per traduttori, per correttori di bozze e naturalmente per redattori editoriali. Il corso per redattori è quello a cui forse teniamo di più. Per una ragione molto specifica, il redattore editoriale è a tutti gli effetti forse la persona più importante, un professionista più decisivo nell'ambito delle lavorazioni editoriali e soprattutto grazie a lui che il testo autoriale si trasforma in libro e assume piano piano quelle caratteristiche che il lettore troverà quando lo leggerà sulla pagina a stampa. In questo corso sono passate diverse centinaia di persone in tutti questi anni. Devo dire che è un orgoglio che molti di loro hanno poi potuto iniziare a lavorare in ambito editoriale. Naturalmente erano quelli più appassionati, più motivati, più determinati, però penso che anche quelli che hanno seguito il corso per una curiosità del tutto legittima, per un interesse molto generale, ne abbiano trovato un vantaggio perché comunque questo corso apre una finestra su quella che è in fondo l'industria culturale più importante del paese. Il corso, come potrete vedere leggendo la sua descrizione sul nostro sito, è molto ben articolato e però non pensiamo di formare attraverso di esso dei redattori completi. Noi ci proponiamo un obiettivo molto più semplice e concreto. Cioè noi vogliamo fornire a chi lo seguirà le informazioni, le nozioni per meglio dire di base per questo lavoro. Cioè vogliamo mettere in grado di avviarsi su questa strada, trasmettendogli il metodo e le tecniche che bisogna conoscere per incominciare a lavorare come redattori. Un redattore fatto e finito sarà tale, credo, alla fine della sua vita professionale. Ogni testo è qualcosa di nuovo, ogni testo ci sfida e proprio quindi soltanto attraverso il lavoro che facciamo nel corso degli anni e dei decenni che ci formiamo davvero, ci formiamo completamente o comunque ci formiamo in tante direzioni, soltanto lavorando su testi diversi, direi in contesti diversi che maturiamo una vera professionalità come redattore. Quello che noi garantiamo è un serio punto di partenza. Il corso sarà tenuto da me e da altri professionisti del settore, persone che lavorano da molti e molti anni al settore. Insieme abbiamo elaborato una didattica che mi pare molto efficace e che quest'anno sarà anche più ricca del solito per vedere video, incontri diretti e tanti altri strumenti che renderemo via via disponibili. Per avere tutte le informazioni che è necessario acquisire per capire se questo corso interessa e quali sono le condizioni che noi paturiamo, sul nostro sito un'area dedicata offre tutto quello che penso vi possiate domandare. In ogni caso quest'anno noi abbiamo anche previsto la possibilità di un dialogo diretto a chi è interessato al corso e me. Ci incontreremo infatti via Zoom in due giorni già definiti, che sono il 22 ottobre e il 12 novembre. Ci incontreremo alle ore 18. Per partecipare a questi incontri è sufficiente inviare una richiesta in proposito all'indirizzo di posta elettronica corsichiocciolalindao.it. Ripeto, corsichiocciolalindao.it. Vi verrà poi inviato il link necessario per accedere nel giorno prescelto a questo nostro incontro. In quell'occasione noi potremo dialogare con molta libertà, potrete chiedermi tutto quello che desiderate sapere e che non è sufficientemente chiarito sul nostro sito. E potremo anche parlare naturalmente delle prospettive di lavoro, di tutte le cose che evidentemente ho potuto soltanto accennare in questi pochi minuti. Io spero di ritrovarvi numerosi, sia in questi incontri, diciamo così, conoscitivi, che ovviamente poi quando comincerà il corso. Spero di ritrovarvi e di poter, insieme a voi, reincamminarmi sulla strada della costruzione del libro. Quella strada che porta appunto alla nascita di questo bene così prezioso e a cui tutti noi siamo appassionati. Grazie per la visione!